Torna a risuonare l'allarme furti in diverse aree della provincia di Salerno. Non solo la città capoluogo, anche i territori fanno appello alla prefettura per un piano specifico di contrasto e repressione dei raid in abitazione e delle attività produttive. Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, si è detto preoccupato per l'escalation di colpi messi a segno in città e parla di vera e propria emergenza per tutta la valle dell'Irno, con la richiesta di una risposta forte da parte dello Stato. Stesso discorso anche nella parte meridionale della provincia, nella Piana, i sindaci hanno contattato la prefettura per un incontro collegiale per affrontare proprio il tema della sicurezza pubblica. La vicenda dell'ordine pubblico, sì, il prefetto mi ha telefonato, io lo ringrazio ancora, ha detto riuniamoci con più sindaci, facciamo un'unica seduta a sud di Salerno con tutti i sindaci, compreso Battipaglia, Eboli, proprio per dimostrare che c'è l'attenzione dello Stato in questa vicenda dell'ordine pubblico. Io ne approfitto per spezzo anche un'arancia a favore del governo perché il viceministro Matteo Mauri sarà qui a Salerno in prefettura per un convegno nazionale con l'Anci regionale, proprio per mettere al centro la sicurezza urbana, la nuova videosorveglianza e più poteri alla Polizia Municipale. Quindi ci stiamo muovendo perché abbiamo l'esigenza di smuovere questo territorio, di dare una scossa a tutti quanti.